...idratazione. Facciamo l'esempio che io vorrei fare un impasto con oltre 48 ore di gravitazione. Sì. Un appretto, massa, come? 48 ore di appretto, 40 ore tra massa e appretto, tutto? Tutto, tra tutto. Ok. Ecco, lo che voglio sapere. Dico, di solito per 48 ore è più facile gestire un impasto tipo un 60 per cento, un 80 per cento? Se la farina è forte è meglio l'80 per cento. Se la farina è debole è meglio il 60. Perché se tu dovesse utilizzare una farina forte per un 48 ore al 60 per cento, nel posto anche il 48 ore sarà durissimo. Farina forte?